Oggi andremo a reagire insieme al film di Brawl Stars, anzi non è un solo film ma sono tanti piccoli film che raccontano storie diverse La prima che andremo a vedere si chiama Leon e Nita, che cosa significherà secondo voi? Sono molto molto curioso e vi ricordo che trovate i link dei film originali in descrizione così che potete vederli ogni volta che volete Mendei Jettaki è l'abbonato leggendario di oggi, spero davvero di aver letto il nome correttamente, grazie mille per aver attivato l'abbonamento leggendario Ora però gustiamoci queste e guardiamoli insieme, sono sicuro che ci saranno delle storie molto... Questa letta è un po' più evoluta di quella di Brawl Stars però, sembra un umano E c'è un Leon versione lupo, ah quindi tipo orso vs lupo, ok, ok Che cosa mi sta a significare questo Leon un pochino così misterioso? What? Che cosa? Ma... ma scusate, ma questo è un film comico, che cos'è? Non è un film di sfida, io pensavo fosse un film di azione, non un film comico L'ha ipnotizzata con la sua coda, ma mi state prendendo in giro? Vediamo un po' cosa succede, eh, vediamo un attimo Cioè praticamente Nita che cerca di prendere Leon ma che non ci riesce mai Sta Nita la vedo un po' scarsetta, vi dico la verità, eh, invece c'è Leon che è bello gasato con le sue ossa Vediamo che vanno a combina, ok, ok, what? Che cosa succederà adesso? Ma che cavolo di problemi ha Nita, scusate Cioè, ecco, perso pure la connessione, voi non ci posso credere No vabbè, a parte gli scherzi, nel frattempo che la connessione magari mi facesse un bel favore Puoi tornare, sai, sto registrando un video No, eh, ma porca miseria, io non so che devo, non so proprio che devo fare, eh Vabbè, intanto che aspettiamo, vi ricordo Felpe di Mattiz, link in descrizione o scorrendo qui in basso sotto al tasto iscriviti Trovate anche gli sconti se siete abbonati, epici, leggendari o anche rari Ovviamente i leggendari avranno uno sconto più alto che troveranno nei post della community Ti prego, riparti Dopo aver scoperto che Willy, il mio gattino, aveva staccato il capo del wifi Anzi, il capo Ethernet, ecco qui Che possiamo continuare e vedere finalmente il finale del nostro film Qui arriva lo scontro finale, secondo me, eh Aspetta un attimo, aspetta un attimo, quello non l'avevo pensato io No, l'orso di Nita, ragazzi Ok, questo è un problema, eh Leon, ma scusa, prima fai tutto il forte, devastinita, usi la coda per spaventarla E adesso gli vai in braccio come un fifone Ma non ci sto credendo Film molto, molto divertente Invece adesso vediamo cosa ci aspetta con Mortis Questo film riguarda Mortis È un Ems Morta? No Perché? Ma poi soprattutto cosa sta pensando Mortis? Mmm, vediamo un po' Questo film è un po' più misterioso dell'altro Potrebbe essere un po' horror Ok, questo film è un po' horror Mi sa proprio di sì, raga Che cosa? Oh, ma stai scherzando? Ems, ma che cavolo fai? Che schifo Ma che schifo è sta cosa? Fermi tutti Fermi, fermi Oh, ma come? Scusate, voi sotterrate Ems dopo che è stata sconfitta e questa rinascia così? Vediamo un po' che succede Abbiamo i due personaggi dai capelli viola Che cosa combineranno insieme? Perché gli sta scattando una foto? What? What? Questo film è un po' strano Gli sta facendo vedere la foto E c'è lei che praticamente si spaventa Probabilmente non pensando di avere questa conciatura E la faccia di Mortis è un po' stupita C'è un cactus lì dietro L'avete visto? Potrebbe essere Spike quello Aspè, ma forse ha perso qualcosa Ha perso lo spray forse La bomboletta La sua bo... Eh, infatti, vedete Ha perso lo spray Lo sapevo io No, vabbè, non ci sto credendo Non ci sto credendo La regina dei selfie su questo gioco Ems La più brutta della storia Hashtag no filter cosa Ok, c'è Mortis che praticamente sta dicendo Che problemi hai? Mortis è un pochino sconvolto Diciamo Sì, Mortis è un pochino sconvolto No, non deve sparare lo spray a Mortis No, vabbè, ma dai Sta a vedere che adesso Mortis muore E va nella tomba di Ems Questo film è un po' no sense Rispetto all'altro Quello di prima almeno c'era Una specie di combattimento Qua sto vedendo da due minuti E Ems che si fa i selfie con Mortis Ma finirai o no? Mi è venuta un'idea ragazzi Possiamo dare dei voti Ai film che vediamo Ad esempio Al film con Nita e Leon Mi sono divertito abbastanza Quindi gli do un bel 7 Mentre a quello con Mortis Gli do un 5 ragazzi Non mi è piaciuto per niente Anche voi dovete scriverlo nei commenti Mi raccomando Fatelo tutti eh Ora qui abbiamo un bel Tutti contro tutti Invece con tanti bei brawler Questo già mi sta simpatico C'è Frank Tutti pronti a combattere Corvo Che stanno facendo? Forse stanno aspettando L'inizio della partita Vediamo un po' Start! Inizia la partita Raga, questo è figo Questo è figo Tutti contro tutti C'è Spike Che vede una cassetta Per prendere la gemmina Beh, basta lanciargli i colpi No? Esatto Sì, probabilmente ci metterà un po' Ma si spaventa Ecco, già morti Sta a rompere le scatole Lo sapevo io Ecco E beh, già morto Spike Ma non è possibile Che con un colpo lo fa fuori Ecco, pure Corvo? No, vabbè Dai, Corvo! No! Il mio preferito Viene sempre fatto fuori così L'unico che è riuscito Ad andare bene È Leon Che ha preso la gemmina E mi sa che ora fa fuori Tara eh Vorrei vivere anche io Un Brawl Stars In cui con un colpo Hit i nemici E li fai fuori eh Non ha molto senso Però abbiamo Alzo le mani contro l'orso raga Contro l'orso non si può far nulla Povero Beryl Ok, si stanno iniziando a diminuire i brawler Mi sa che sono rimasti in 5 adesso eh Perché Frank apre la bocca? Frank apre la bocca Perché si innamora di Nita Ma mi stai prendendo in giro Frank sveglia di cora Ti fa fuori Fermo No! Guarda che adesso arriva l'orso che lo fa fuori eh Quanto ci scommettete? O forse no Mi sa che Shelly ne approfitta eh E invece no! Che palata di Mortis raga Questa era cattiva come palata eh Raga Mortis è il più cattivo Non c'è niente da fare Ecco Lo risveglia Ma stanno giocando in squadra allora Perché Che cosa Sta Succedendo Eh Che cosa Aspetta Leon e Nita stanno in squadra Contro Mortis e Frank Forse Non ho capito bene sta cosa Eh mi sa proprio di si Niente Nita è sempre la regina In sta cosa L'unico che può salvare il mondo In questo momento è Mortis E forse ce la fa Forse ce la fa Attenzione No Aspetta Che cosa No Allora non era di squadra insieme E ora fanno fuori pure Mortis Raga ma Ma che cavolo di film è questo Che cavolo di film è questo Frank si è Lanciato per salvare Nita Allora Nita è anche triste Magari si volevano anche Amare Che cosa vi devo dire Non ne ho idea Sentite È molto strana come partita Al genere Quando io gioco a Brawl Stars Sparo un nemico Sparo un nemico e muoio Non che nascono le storie d'amore Durante le partite Mi sa che hanno vinto Comunque hanno ricevuto pure un premio Che sono delle caramelle Bene E chi è? Fantasma di Spike Ah quindi se vinci ti regalano delle caramelle Non la sapevo sta cosa Interessante Questo devo dire che è stato carino Gli do un sette e mezzo Sette e mezzo Non voglio stare troppo alto Quei voti Perché secondo me Succederà qualcosa di figo Durante le prossime Durante i prossimi film Tipo quest'horror Con Bull Ma che ambientazione è questa? Che figata Bull Bull Mi fa paura sta cosa a me È un'altra Ems questa Mi sa eh Bull Ti prego Non farmi fare un jumpscare Aspetta un attimo Ma chi sei tu? Chi cavolo è? È Ems? O Tara? È Tara! Non è Ems! Lo sapevo io Quell'occhio mi fa pensare Sono a Tara Ok Meno male che è morta subito Eh questa cosa mi tranquillizza abbastanza Bull procedi ed esci da sto posto maledetto Vediamo che cavolo succede ora Mi sa che non è morta eh Ecco lo sapevo io raga Lo sapevo Porca miseria Bull Fuggi Bull Fuggi via No Il cerchio di Il vortice di Tara Oh no 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 Bull Bull Eh mi sa che è finita per Bull Bella Un salutone A Bull Che brutta fine ragazzi Questa è cattiva come cosa Tara è scattivissima È cattivissima Vediamo come finisce Ah l'ha ucciso Semplicemente L'ha ucciso e trasformato In una gemmina Da prendersi per vincere Il suo showdown Mi pare giusto Tara Ottima strategia Beh se l'è meritata eh Mamma mia Questa sembra la bocca Del pagliaccio di Hit Mamma mia ragazzi Questo è spaventoso Ma è molto carino Come come film Vediamo se succede qualcos'altro Ok È scomparsa Adesso andrà ad attaccare Altre prede Altri nemici Oh no Non è finita Mortis Raga Mortis e Tara Sono oscuri entrambi eh Se Mortis Uccide Tara Io do nove A questo Film Mi sa di no però eh Mi sa proprio di no eh Mamma mia Quella Tara Fa una paura Spavento No Finisce così Cacchio Però è stato figo questo E questo un bell'otto Se lo merita Se fosse durato un pochino di più Con il combattimento Tra Taras e Mortis Tra Taras e Mortis Ti avrei dato anche nove eh Figo però Otto se lo merita Leon e Nita Che vanno a fare dolcetto scherzetto What Fermi tutti Questo pure potrebbe Tara Non l'avevo letto No Di nuovo Tara Potrebbe essere la continua Di quel film Probabilmente Fermi Ah lo sapevo Sta Tara ha rotto le scatole Ma poi ogni volta C'è una skin diversa Ma come fai oh Eh si Mi sa che qui le caramelle Non Ah no invece gliele da le caramelle Molto simpatica questa cosa Molto molto simpatica Vediamo un po' Eh vabbè ma quante caramelle gli da Ardali Guardali quanto sono felici Leon non ci sta credendo Nita è molto molto contenta invece Ma perché Nita indossa un costume Da bagno Vabbè Non facciamoci domande Ci scommettete che quelle erano caramelle impossessate raga Secondo me sono caramelle impossessate Guardate le hanno mangiate così velocemente Che adesso deve succedere per forza qualcosa Che cosa vogliono fare Al cimitero Non vorrei Perché vuole fare Perché Perché dolcetto scherzetto al cimitero No Ora beccano mortis 100% scontato raga Easy Guardatelo mortis Eccola qui La casa di mortis Ci avrei giocato tutti i miei V-Bucks Eccolo qui Mortis House 6 6 6 Oh oh Io non avrei bussato la porta mortis Oh cavolo E ora Eh Nita è sempre felice Non si sa come Vediamo che fa mortis Gli dà le caramelle Giusto Giusto Le dà tutte a Nita Ah no le dà tutte e due Perfetto Oh Ma sti cattivi c'hanno un botto di caramelle Pure i vestiti What Ma che cavolo Ma che figa No raga io voglio una Nita Voglio un Leon così su Brawl Stars Se fanno pure i selfie Ma questo è fighissimo ragazzi Questo è fighissimo Oh Siamo passati dai più brutti ai più belli Io a questo per concludere gli do un bel nove Fatemi sapere qual è stato il vostro film preferito Vi aspetto nei commenti E vi ricordo di andare a shoppare tutte le skin di Mattiz Trovate il link in descrizione per tutti quanti i prodotti Abbonatevi per entrare nel club di Brawl Stars Ed avere dei super codici sconto Non perdete nessun altro video di Mattiz Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao